quando vado in altavalle e vedo tutti questi bei campanili questi stupendi paesaggi sono felice ma che cos'è la felicità a volte ce lo chiediamo sembra quasi banale ma se dovessimo dare una risposta precisa forse non riusciamo a farlo ci imbarazza è sempre qualcosa di ricercato e sembra di mai raccolto pienamente almeno rimane sempre uno spazio vuoto un'opportunità maggiore un riempimento che desidero un sogno che si infrange molte volte andiamo dalle piccole cose una canzone diceva è un panino con un bicchiere di vino alle grandi cose essere felice vuol dire amare è un cristiano deve essere sempre felice deve essere sempre gioioso o altrimenti può anche essere triste ogni tanto credo che come cristiani soffriamo come chi non crede ma abbiamo una speranza quella di non perdere mai la fede e quella sofferenza trova un motivo trova un significato a una risposta spesso leghiamo la felicità dei sentimenti e l'opposto della felicità sembra essere la solitudine quando mi mancano gli altri mi mancano i sentimenti posso essere in piazza san carlo il giorno di carnevale a torino ed essere solo come un cane eppure attorno a me o decine di migliaia di persone covid permettendo la felicità si conquista mettendo spalla contro spalla o quando qualcuno entra dentro di me quali sono le persone che ci hanno resi felici e non sono più andate via dalla nostra vita perché sono entrate nella profondità di noi stessi non sono tante a volte facciamo fatica a mettere insieme le dita di una mano passando tutta la vita quando siamo giovani abbiamo bisogno di tante persone facciamo le giornate mondiali della gioventù andiamo ai concerti lo stadio abbiamo bisogno di tanto poi andando avanti a volte abbiamo bisogno di passare una serata con una persona per approfondire la relazione ecco ci sono tante opportunità in cui ricerchiamo la felicità che poi è il senso della nostra esistenza ogni uomo la cerca e molte volte coni anche delle frasi molto belle molto profonde ne ho trovate alcune il profeta gibran dice le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno bella molte volte chi desidera vedere l'arcovaleno deve imparare ad amare la pioggia ci ricorda paolo coelio in un suo libro non ci sono gioie e felicità a basso prezzo oggi ce ne offrono tante su un piatto d'argento facili da prendere ma ricordiamo sempre che la felicità è sudata altrimenti non è vera e soprattutto non è duratura poi c'è chi vede la felicità nell'amare Hermann Hess è amore nient'altro è felice chissà amare si relaziona a qualcun altro Einstein invece ci dice no se vuoi la felicità dedicati ad un obiettivo non a delle persone o a delle cose la cerchiamo un po' dappertutto in una omelia a Santa Marta Papa Vergoglio diceva la gioia non è essere divertente no non è quello è un'altra cosa la gioia cristiana è la pace la pace che c'è nelle radici la pace nel cuore la pace che soltanto Dio ci può dare a volte siamo persino invidiosi di una persona che è felice perché molte volte curiamo le nostre infelicità e alimenti lasciamo che sia la parola di Dio a dare significato prendo un brano conosciutissimo i discepoli di Emmaus il capitolo 24 di San Luca un giorno due di loro in cammino per un villaggio di nome Emmaus conversavano tra loro su tutto quello che era accaduto mentre conversavano e discutevano insieme Gesù si avvicinò e camminava con loro ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo tu solo sei così forestiero a Gerusalemme da non sapere cos'è accaduto in questi giorni noi speravamo che fosse Gesù che fosse lui che avrebbe liberato Israele ma con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute Gesù disse loro stolti e tardi di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria quando furono vicino al villaggio insistettero resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai volge al tramonto rimane con loro e quando fu a tavola prese il pane recitò la benedizione lo spezzò e lo diede loro allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma egli sparì dalla loro vista ed essi si dissero l'un l'altro non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture ecco vedete i discepoli di Emmaus ci ricordano una cosa molto bella che dove arde il cuore sta la nostra felicità una persona una realizzazione un sogno che siamo riusciti a mettere in atto è lì che ci arde il cuore è lì che troviamo felicità e molte volte abbiamo bisogno di fare un pezzo di strada perché ci arda il cuore a volte un pezzo di strada lungo e a volte passando anche attraverso lo sconforto la non comprensione quello che fanno i discepoli di Emmaus camminando forse scappando via da Gerusalemme perché erano delusi noi speravamo pieni di noi speravamo l'esatto contrario della felicità la delusione la solitudine sono due a camminare ma ognuno è solo con se stesso si parlano ma ognuno ha rimbomba l'eco di se stesso dentro di sé quando incontrano Cristo quando gli dicono resta con noi perché ci arde il cuore ci hai scosso dentro quando si sentono scossi il cuore stolti e tardi avete lasciato il cuore in ritardo girano la schiena e tornano a Gerusalemme sono scappati guardandosi la punta dei piedi sono tornati guardando che quel tempo era il tempo della primavera era il tempo della rinascita era il tempo della risurrezione per raggiungere la felicità sono passati attraverso la fatica ma non sono rimasti nella fatica si sono lasciati guidare da Cristo perché è dove ci arde il cuore Cristo presente perché è la nostra felicità allora proviamo a trovare alcuni spunti cambiare noi stessi l'altro costa fatica ma sono le buone relazioni che ci rendono felici a volte con fatica ma con necessità sono quelle che ci fanno finire una serata dicendo ah che bello resta con noi e vorrei ancora stare qui non andartene è troppo bella questa relazione puoi investire in cose che ci rendono felici a volte sappiamo benissimo qual è la felicità ma ci lasciamo prendere da altre cose abbiamo il nostro lavoro a volte la carriera investiamo molto ma siamo ben consapevoli che è più importante alla famiglia però a volte andiamo a litigare li facciamo scontrare alimentiamo l'infelicità pur conoscendo qual è la felicità poi non confondere la felicità con il piacere spesso la felicità sta proprio nel vincere i piaceri ci troviamo soddisfatti quando sono i piaceri a vincere noi generalmente siamo infelici siamo delusi siamo vuoti quando sappiamo vincerli siamo forti forti nello spirito non diamo da mangiare all'infelicità perché molte volte siamo ben consapevoli che certi nostri ritmi e certe nostre abitudini non ci rendono felici però ci aggrappiamo a loro perché abbiamo paura di fare quel pezzo di strada a volte guardandoci un po' la punta dei piedi come i discepoli di Emmaus ma per trovare qualcuno che ci faccia ardere il cuore che cambi la nostra storia che ci faccia girare la schiena che ci faccia girare i tacchi e riprendere la stessa strada della fatica con felicità a volte essere in grado di amare in una situazione che in passato ci ha offese ci ha faticato questo ci rende felice riuscire ad essere in pace in una situazione che forse poco prima ci aveva fatto soffrire ci aveva dato paura porta gioia nel cuore questo a volte riuscire a rinunciare alle cose che un tempo ci legavano al mondo erano così forti il nodo era così stretto quando siamo riusciti a scioglierlo ci ha dato felicità e a volte essere in grado di servire perché la felicità è sempre fare felice qualcun altro non la troviamo egoisticamente in noi la felicità è sempre una persona ma non sono io è sempre qualcun altro e la felicità a volte è una ricerca non è un raggiungimento pieno è la gioia della risurrezione sperimentata attraverso la passione della croce Gesù ci ha dato una grande gioia una grande felicità una felicità per sempre perché è la felicità che passa attraverso la sofferenza e ci ricorda che la croce non è il capolinea della vita ma c'è sempre una penultima fermata c'è ancora lui che ci aspetta dopo nella pienezza di vita e allora riprendo una frase un brano sempre da Paolo Coelio che ci fa tornare un po' bambini perché a volte troviamo la felicità nei ricordi passati in quello che eravamo nelle cose che abbiamo fatto da bambini nella spensieratezza nella bellezza lui ha rilevato tre caratteristiche un bambino può insegnarci tre cose noi adulti può insegnarci ad essere contento senza averne un motivo bello ad essere sempre occupato con qualche cosa non è mai fermo un bambino a pretendere con ogni sua forza quello che desidera cerca di andare sempre fino in fondo passa attraverso a volte la fatica per raggiungere quello che è nel suo cuore quello che gli fa ardere il cuore che non è sempre a portata di mano direi quasi mai ha bisogno di un percorso voglio aggiungere il quarto insegnamento cerco da Gesù un bambino avere fiducia quando gli chiedono chi è il cristiano chi è che entra nel regno dei cieli non dice il più grande santo il più grande uomo della storia dice il cristiano è un bambino perché il bambino ha fiducia tende la mano e si lascia guidare dall'adulto altrimenti non crescerebbe che il Signore ci aiuta a trovare la felicità tendendo la mano come un bambino e lasciandoci guidare da lui nella vita perché la felicità la troviamo soltanto in testa grazie a tutti Grazie.